benvenuti a tutti in questo nuovo video con i nuovi capelli boom che cambiamento vero lo so sono ancora scioccata li ho fatti ieri ancora mi ci devo abituare comunque benvenuti in questo nuovo video sono abbastanza contenta del colore che è uscito non doveva uscire questo colore ma vi racconterò a strada facendo perché il video di oggi sarà un mi preparo con voi mentre vi aggiorno sul mio nuovo colore perché si sa che hanno influenza e piace tantissimo tornare sbocciando facendoci un cambio look dicendolo ai 4 20 quindi comunque a parte degli scherzi volevo provare un makeup che stesse bene con questo nuovo colore perché effettivamente è un colore molto importante ok sembra una gloria del passato cresciuta chi mi segue dal lontano 2012 sa di cosa sto parlando dimentichiamo tutti la sigla un minuto di silenzio per quella vecchia sigla già che ci sono volevo provare tutti gli arrivi che mi sono arrivati già che ci sono volevo provare tutte le novità nel mondo beauty e skin care perché mi sono arrivati tantissimi pacchetti quindi la prima cosa che vado a fare è prendere questa bellissima fascia di lilac cosmetics diciamo così poi la tiriamo indietro capelli sistemati sono pronta per provare il primo prodotto in questione che è il the professional speedy smooth è una maschera contro i pori contro i pori in vista quindi con questo andiamo a levigare questa e tanti altri prodotti sono una delle novità in casa benefit ho partecipato anche al loro evento settimana scorsa al bubble world se vi siete persi il reel magari ve lo carico anche qua su youtube comunque trovate tutto su IG mi sono divertita tantissimo perché hanno fatto questo evento a tema lanciando proprio lanciando per aria per il lancio di questi prodotti che all'interno troviamo questa maschera io la maschera non l'ho ancora provata e neanche l'altro prodotto che mi è stato inviato che è un gel un cleanser se non erro comunque vado subitissimo a provare questa questa è una maschera veloce dicono infatti bastano 35 minuti di applicazione per poi sciacquarla via e vedere i risultati dice appunto che leviga la pelle istantaneamente e allo stesso tempo va anche a migliorare la texture della nostra pelle utilizzerò le dita o anche le salviette ho detto vabbè dai era tanto che la volevo provare per favore non giudicate i miei peli sulle braccia perché non ho voglia di farli semplicemente è di una texture verde mi ricorda molto le maschere detossificanti e vado a stenderla è verdino vado a stenderla che profumo vado a stenderla sul viso cerco quanto meno di stenderla bene e dato che io in queste zone ho i pori molto dilatati la vado a stendere maggiormente qui e anche qui non sono ben definita perché ho le cicatrici dell'acne che in passato mi hanno un attimino lasciato la pelle un po' così però volevo farvi notare con mia gioia quanto è migliorata la mia pelle a parte questi brufolettini perché sono ciclata non solo i miei capelli ma anche io questa è la pelle del momento però è migliorata tantissimo infatti sono molto contenta di questo non me l'aspettavo con la vecchiaia si acquisiscono nuove skin anche in questo punto sono abbastanza porosi vi dirò è anche facile stenderla col dito non per forza dovete munirvi di pennellino vi posso dire che l'effetto è leggermente fresco non sa di mentolo non ha quell'effetto di mentolo sul viso però si sente che sta lavoricchiando in modo molto 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 leggero secondo me pre makeup questo tipo di maschera fa veramente un successone sulla pelle per cercare appunto di aiutare anche il before and after si sa che con una pelle oramai preparata bene idratata bene il makeup viene più performante in più adesso vi farò un breve sneak peek fantastico questo look vi farò uno spoiler dei prodotti che andremo ad utilizzare oggi perché appunto gli arrivi sono veramente tanti c'è una mosca mi mancano anche tante cose che devono arrivare perché c'è tante cose so che ho dei pacchi in sospeso perché sono ancora registrati al vecchio indirizzo e quindi i corrieri si stanno perdendo ma vabbè non so se avete visto nelle storie delle altre persone ma quasi tutti è arrivata questa stessa pochette con all'interno pochette con all'interno i prodotti di glow wish la sezione di huda beauty sempre prodotti un po più leggeri un po più comodi un po da tutti i giorni un po più naturali della linea glow wish come il bright light che io ho già provato e testato e devo dirvi nonostante la texture non mi abbia fatto impazzire perché è molto dispersiva cioè molto leggera quando l'andate a stendere sembra svanire non è pigmentatissimo in realtà la furbetta si va proprio a uniformare all'incarnato e a dare effettivamente questo contorno occhi molto più uniforme quindi va a correggere effettivamente l'occhiaia non pensavo perché la texture mi ha già parlato cioè io appena l'ho steso ho detto dove è andato avevo già provato un tipo di correttore simile a questo e non mi piacciono a me piacciono a me piacciono i correttori pigmentati anche perché ho un bel po di nero di anche se qua con la luce in alto non si nota però fidatevi ho la pelle stra sottile si vede un botto in nero sotto l'occhio e quindi tanti correttori con questa texture li ho sempre bocciati ovvio che poi sopra vado a stendere altri prodotti e oggi ne abbiamo veramente tanti perché oltre a makeup revolution clio makeup nars abbiamo anche mulac la nuova uscita che ancora io non ho provato onestamente ho già provato quello di lancome e mi è piaciuto mi è piaciuto però è un po troppo giallino di sottotono quindi mi fa lo stacco non troppo però a me dà fastidio quindi spero che quelli confido in quelli di mulac di colorazioni ma di texture mi è piaciuto veramente tanto anche di durata durante tutto il giorno è rimasto lì non si è spostato non è diventato oleoso non ha seccato troppo la pelle mi è piaciuto però comunque nel corso del video proveremo tantissimi prodottini 5 minuti sono passati adesso mi vado a sciacquare il viso perché si è un po seccata eccomi tornata pelle pulita mi sento super super liscia idratata ma tesa cioè come se fosse stata ripulita a fondo i pori effettivamente non so se notate sono molto più levigata c'è una luce un po particolare perché ho deciso di fare il video in questa postazione dove c'è la luce dall'alto quindi vabbè tra poco tanto scenderà quindi noteremo insieme effettivamente il makeup come è uscito partirei con la skin care cosa molto importante perché mi è arrivato tempo fa un pacco di pixie che è ancora rimasto immacolato è la linea clarity collection come potete vedere piena di prodotti che io ancora non ho provato quindi partirei con il terzo che è un concentrato qui dice che questo concentrato è un natural problem solving quindi possiamo inserirlo nel suo curriculum con ingredienti attivi che rifiniscono e riparano la pelle dalla texture provata insomma e dalla quotidianità ecco e la mia è molto provata soprattutto per le vicende le vicissitudini che ultimamente si sono aperte sulla mia strada dopodiché vado ad idratare con la clarity lotion lei anche aiuta istantaneamente a dare un boost di idratazione e a minimizzare i pori quindi rimaniamo sempre sulla stessa linea di minimizziamo i pori together dopo utilizzerò lo spot solution per questi brufolettini che mi aiuterà proprio anche qua a minimizzare tutte le imperfezioni e a subito riparare e quindi niente siamo pronti per fare skin care mentre vi racconto questi aneddoti di vita lo sfondo ho deciso di fare questo qua perché ho messo via gli sfondi adesso devo capire un po' il setup come posizionare il tutto se me ne frega qualcosa sono un po' più sul sfondo naturale perché sapete che oramai i miei video tra dei che i vlog che pubblico e quelli che faccio un po' così quando chiacchiero sono molto alla buona con lo sfondo non sono più con gli sfondi preparati come facevo prima perché wow ci assorbe subito perché non ho non lo so l'idea del setup di prima nonostante mi piaccia tantissimo con le luci con gli fondali lo trovo molto più professionale per come sono ultimamente non che non sia professionale però sono molto più aperta al dialogo in una situazione di comfort come può essere la mia vera stanza la mia vera vita il mio vero background ecco mostrarvi una gloria in totale tranquillità anche se poi di tranquillità non ce n'è perché vi dico qua davanti a me c'è un casino che mi sta mettendo un po' l'ansia a guardare soprattutto per dopo quando dovrò sistemare ma va bene sono i rischi del mestiere allora c'è stato di peggio quando ho fatto i video comunque vado a stendere la crema che io adoro questi tubetti fatti così sono molto comodi da utilizzare questa è molto viscida come crema sembra anche molto grassa speriamo si assorba perché altrimenti è un casino rimane molto viscida non so se riuscite a percepire il suono è piccicosa attivamente raga ma non si assorbe più mio dio cioè guardate restano proprio lì dove le piazzo potete farci anche la laminazione con questa va spok vi dirò ora che la massaggiata si è assorbita ma è rimasta abbastanza sticky penso che col tempo si asciugherà meglio senza oli e per ultimo vado ad applicare questo comunque veramente mi sento tornata indietro all'inizio di youtube quando avevo questi capelli oh wow ma dai ma che figo ha dei micro buchini a cerchio e poi uno centrale quindi quando si schiaccia esce proprio il prodotto a pastiglia a compressa anzi no sapete quando andate a mettere quelli nel bc per profumare in gel che schiacciate ed esce il fiore uguale vabbè io lo picchietto un po' perché pure la consistenza di questo è viscida mi sa che è proprio una prerogativa di questa linea mi ricorda questo il zinda clean che è la crema quella per l'acne che avevo utilizzato per un periodo che mi aveva fatto strabene però è medica quindi non va utilizzata sempre e che andava appoggiata proprio sulla zona e quella lavorava seccando la zona e andando a riparare i brufoli questo essendo naturale penso faccia più o meno la stessa cosa perché è proprio è infatti applicare solo sulla zona affetta da imperfezioni quindi non va spalmata va proprio applicata solo su quella zona e penso lasciata un po così nel frattempo vi faccio vedere l'altro pacco che mi è arrivato da clio che ho aperto proprio poco fa e all'interno c'era il dollaro il clio dollaro bellissimo il clio dollaro non so dove posso spendere il clio dollaro in clio make up we trust perché perché è nato è nato in casa clio make up mille lash infatti siero ciglia allungante che andremo applicare tra poco applica mille lash tutte le sere come un eyeliner dopo aver rimosso il make up va applicato come eyeliner usa il mascara 360 flip che abbiamo anche all'interno qua prodotto dell'anno per un effetto panoramico e dark love che abbiamo dentro qua per un finish extra volumizzante wow grazie mille lash di esistere ma che bello sentite io lo vado ad applicare lo stesso perché lo voglio provare poi stasera lo applicherò proprio come prodotto da notte per la skin care ad eyeliner con il siero io vado ad applicarlo semplicemente così e vado a fare del bene alle mie ciglia che idea bellissimo da un effetto ovviamente molto idratato alle alle ciglia è anche piacevole quindi magari lo applicerei poco prima di andare a dormire non prima di andare a dormire perché altrimenti mi sveglio io se ho cose idratanti mi sveglio poi gli occhi procederei con l'applicazione del correttore vi faccio vedere questo come vi dicevo prima di uda glowish perché voglio farvi vedere come effettivamente mi va a lavorare sotto l'occhio ho ricevuto tante altre colorazioni ma quella che va bene per me è la 01 fair appunto già che ci sono applico anche il bright light che è l'highlighter di makeup evolution questo qua rose gold che qua in questa zona sia per colorirmi le guanciotte che sono rimaste belle rosate poi con questo colore vi giuro ne ho incarnato anche se qua sembro pallida e bianca è molto più uniforme molto più bello risalta molto di più ho notato che sono un po' arrossata qua però eh non è da me arrossarmi facilmente con i prodotti so capire se la maschera ha fatto proprio un effetto detossificante power o no perché come vedete ha questo bellissimo applicatore spugnetoso giro 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 e aspetto che esce il prodotti dai oh là sta uscendo amici sta uscendo sembra coronavirus vado ad applicarlo qui come vi dicevo e beh è bello e importante è bello e importante diciamo che più che illuminante questo è un blush illuminante bello e importante bello e importante non sapevo fosse così honestly non immaginavo minimamente prendo mia spugnetta e vado a sistemare il tutto sfumando per bene il prodotto che si fanno un po' di macchie devo dire la verità ma non capisco si va ad asciugare e a fissare così tanto madonna questo illuminante non me l'aspettavo così wow scrivente ma soprattutto che si fissa cioè si fissa una volta che lo piazzate lì sfumarlo diventa un po' un'impresa comunque vado ad applicare lui vedete che è come texture è molto accosa molto leggera c'è il pigmento perché c'è però una volta trascinato tende a svanire anche se poi come vi dicevo non è esattamente così perché il suo lavoro lo va a fare devo dire che per tutti i giorni è molto comodo poi rimane molto idratante quindi non va a seccare scusate se l'ha messa a fuoco fino adesso faceva non l'avevo fissata comunque adesso vado ad applicare il fondotinta prontissima di provare con voi il nuovo BFF di Mulac ancora non l'ho mostrato su Instagram non ho fatto swatch prove niente proprio non ho fatto niente perché volevo provarli tutti insieme andiamo ad aprire bellissimi questi packaging a busta qui abbiamo il BFF brush la base idratante barra primer che andremo ovviamente a stendere in queste zone ed eccolo qua il fondotinta idratante il water cream foundation e la polvere pressata da utilizzare se si vuole appunto fissare il fondotinta cosa che io farò allora qua dice appunto una cipria dalla polvere sottile dal finish luminoso questa il BFF foundation skin tint con formulazione ibrida coprenza media e un finish demi matte BFF skin base è un primer per idratare e preparare la pelle al make up adoro questa scelta cromatica bellissima extra morbidosa oh wow la vado a picchiettare in queste zone perché non la voglio strisciare dato che abbiamo messo già il correttore forse avrei dovuto metterla prima ma vabbè questo è il fondotinta Brigitte numero 1 quindi il più chiaro mi hanno mandato uno dei più chiari non lo so spero 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 si ricordino di me la prova del 9 raga colore perfetto perfetto è lui grazie grazie stupendo anche il pennello siamo pronti allora la texture è particolarmente spessa ma una volta applicato si distribuisce benissimo si riesce a uniformare bene col resto dell'incarnato non lascia le macchie lavorato col suo pennello viene molto bene come vedete la coprenza è media vado a stenderlo anche di qua vedete che è bello coprente questa è l'applicazione del fondotinta mi piace tantissimo molto bello si è uniformato benissimo non sembra neanche truccata col fondotinta da vicino vi giuro l'altro fondotinta come vi dicevo di Lancome invece mi ha lasciato un po' così per la colorazione questa è perfetta da Brigitte questa è la 1N perfetta quelli di Lancome hanno dei sottotoni un po' troppo giallini per quanto mi riguarda perché io sono veramente come il mio collo dice bianca bianca rosa strana con questo colore butta fuori veramente delle colorazioni assurde vado a settare leggermente con la powder anche questa è la più chiara la 01 light con lo stesso pennello ora vedremo durante il giorno come si evolverà la situa vado a fare oh un baby capello vado a fare le sopracciglia perché non riesco a vedermi così quindi bisogna fare le sopracciglia ho bisogno di gesti vado a stendere il browsio sempre di mulac per tirarle un po' e pettinarle e gne gne in questa cadenza ogni volta e vado a fare le sopracciglia intanto vi narro perché questo cambio look finalmente arriviamo al momento in cui chiacchiero un po' con voi perché io non so se spiegare i prodotti quello che vado a fare o la mia vita e siccome di cose ce ne sono tante da dire allora i miei capelli erano un po' abbandonati a se stessi no? perché come sapete da quasi 7-8 mesi tutti che vado di tinta della noa presa al tigotà me la sto facendo io perché mi ero rotta veramente di andare di essere schiava dei parrucchieri ogni mese e dover andare ogni mese io non ho più la possibilità tra l'altro di spostarmi come prima quindi sono più in sbattimento che altro e poi non necessitavo questi grandi cambi look in questi mesi anche perché c'è stato il trasloco di mezzo tante varie cose che mi hanno portato un po' a godermi altro che queste cose che io dico sì sono belle però sono comunque bello farsi i capelli però lo lo definisco un po' frivolo no? ultimamente per come sto trattando le cose nella mia vita e quindi l'unica cosa che mi andava di fare mamma mia ragazzi poi non avevo neanche bene in mente cioè non avevo l'idee chiare poi sono passata anche al rosso già prima di avere questo colore un po' un rosso un po' più scuro un mogano ecco e da lì poi ho iniziato a dire basta mi sono annoiata di questi colori voglio fare altro il problema era però che erano scuri perché la signorina tinta della noa per quanto io in questi mesi mi sia trovata bene perché comunque era facile da fare da reperire cioè non avevo grandi esigenze va bene la signorina era era piena era piena di pigmenti così scuri ma così scuri che quando ho avuto la brillante idea di fare le mesh qualche giorno fa le lunghezze non schiarivano ed era un problema perché tinta non schiarisce tinta ma la de così e vi giuro in due giorni abbiamo fatto mia mamma da ex parrucchiera sapete mi ha sempre fatto i capelli poi mi mancava che mi faceva i capelli mia mamma quando me li ha fatti ho detto Gloria non stanno schiarendo sono arrivati al rame e punto zero come se il capello più di così non prendesse vi giuro li ho tenuti su tantissimo e anche il giorno dopo poi non lo so non hanno proprio avuto un minimo di cambiamento bella naturale però impegnativa se in un secondo momento volete cambiare colore quindi che cosa è successo abbiamo schiarito i capelli con l'intenzione di andare a fare poi un colore un po' più chiaro e non lo so dargli un po' più di luce cerirli un pelo io dentro di me dicevo dai magari poi un domani torno bionda mi faccio di nuovo tutti i colori mi manca farmi colori i capelli comunque è una cosa che mi è sempre piaciuta fare ma che non potevo più fare dal momento in cui ogni volta che facevo la decolorazione sulla cute mi riempivo di crosse ed ero diventata quasi allergica quindi ho dovuto anche smettere di fare i capelli così decolorati perché era un po' un casino con la testa e le mesh sembravano un'ottima soluzione soprattutto perché non vanno a toccare la cute di mese in mese si possono aumentare e piano piano vado a fare le mesh e fare sopra il colore che voglio bene abbiamo fatto in queste due giornate la mi sono riempita la testa di cartine a Lego foto è stato molto divertente perché eravamo convinte ma più di tanto non aveva schiarito cioè tipo qua aveva schiarito dove c'erano le mie lunghezze dei capelli naturali benissimo e da qua in poi è rimasto ramato quindi con i capelli ramati io mi sono detta mamma non c'è la cioè che colore faccio prendo un castano dorato cioè un biondo scuro dorato prendo lo so un ginger prendo un castano prendo non lo so cosa devo fare non volevo fare una tinta di nuovo no non volevo ricolorare tutti i capelli volevo rimanere sempre naturale di mese in mese come vi dicevo poi nel caso aggiungere qualche mesh stava diventando veramente impegnativa la situa perché io non volevo arrivare a tingermi poi mi sono ricordata comunque intanto prendo la palette di Nars che vi faccio vedere questi ve li ho mostrati su Instagram sono i nuovi arrivi di Nars tra cui una palette queste sono le due palette una palette viso e una palette occhi non ricordo i colori quindi li andiamo a guardare un attimo questa è la palette orgasm rising di Nars non la chiudo perché sennò è un casino da aprire e dopo andiamo di questa ve la faccio vedere più tardi e continuo il racconto stavo dicendo mi servono dei pennelli però ad un certo punto mi viene in mente intanto stendo questo la mia borsa di colori della Arctic Fox che anni fa mi aveva inviato cioè che non ho più completato cioè non ho più finito perché ero tornata rossa cioè ginger e poi dopo ho fatto i castani dai miei vecchi parrucchieri ero tornata a fare colori comunque normali naturali quindi non avendoli più utilizzati mi avanzavano un sacco di colori tra cui il verde il giallo giallo proprio wow tipo Lady Gaga in telephone mi pare ce li aveva con quel giallo l'azzurro blu poi un altro po' di viola un altro po' di fucsia e un rosso e questo qua che era un color sunset orange si chiama quello che ho fatto io e di orange c'ha poco e niente questo perché deve scaricare quindi ogni volta che laverò i capelli si scaricherà si sfumerà e diventerà ramato bello perché poi sotto ho il ramato quindi sarà tutto molto più ginger e l'ho caricato così tanto proprio perché io lavo spesso i capelli cioè ogni due giorni riesco ad allungare fino al terzo ma ogni due giorni li devo lavare raga sono lunghissimi si sporcano e non ce la faccio a tenerli di più stimo tantissimo che si le lava una volta a settimana tenta volte di farlo anche io quando vedo che stanno durando e che non devo fare grandi cose però è complicato cioè è veramente complicato non riesco neanche a stare troppo con la coda io sono sempre team capelli lisci liberi lisci per quanto riguarda cioè liberi da da code o altro il massimo che faccio sono le trecce che mi piace fare perché mi piace come sto con le trecce quella è l'unica cosa ieri ho provato a farmi anche le trecce con questi capelli nuovi e sono uscite molto carine quindi poi quando si sporcheranno farò le trecce e quindi niente ho fatto questo colorino è stato uno shock vedermi tutt'ora è uno shock vedermi mi sembra di essere tornata indietro con il rosso di una volta di tanto tempo fa sul sito dell'Arctic Fox adesso hanno fatto uscire un nuovo colore arancio simile quindi sono contenta di essere anche di moda al momento giusto e niente questo è quanto questa è stata la mia rinascita del momento e tra l'altro qua c'è un aneddoto molto strano su questo colore quando era andata al concerto degli Alt-J c'era una ragazza che aveva questo colore di capelli della mia stessa lunghezza tutti lisci che svolazzavano in giro e io quando l'ho vista insieme alla mia amica ho fatto proprio wow vorrei troppo quei capelli sono usciti casualmente quindi la legge dell'attrazione ancora una volta colpisce per un errore sono usciti di nuovo come sotto sotto forse volevo non lo so o come dovevo averli magari ero io del futuro da una parte non vedo l'ora di vedere quando si scaricano che colori diventeranno molto molto curiosa questo è un Rouge for Lips dell'Herborian mi sono sempre trovata bene sia come blush che come colorante per il mio per le mie labbra e utilizzo proprio questo pennellone qua per fare questa parte così almeno già che ci sono vado anche a idratare le labbra perché questo idrata tantissimo con l'altro pennello vado a fare un po' di mascheramento sfumo 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 ho tolto questo perché era troppo rosso e non mi ci vedevo penso che dopo applicherò un po' di marroncino vado a ringaluzzire un po' la palpebra con questo colorino qua e questo giusto per dargli un po' di hello eyes hello eyes vado ad applicare il 360 flip che io ce l'ho già mi sta piacendo tantissimo questo è quasi finito infatti sono contenta di avere quello nuovo così almeno prima però di applicarlo vado a stendere una matita color burro all'interno dell'occhio dopo aver applicato la matita color burro ho applicato la Twinfinity questa qua battery numero 2 di Laila vado ad applicare anche il liner pow di Makeup Revolution mi hanno inviato un altro eyeliner pow bellissimo ok questo lo avevamo provato insieme sul canale viola e c'è stato molto cioè è stato molto divertente perché non scendeva c'era tutto la punta poco power e quindi non mi stava colorando era la punta nuova ancora adesso è bella pronta semplice proprio così efficace applico con l'occhio aperto perché io ho la palpebra che inizia con l'età a mangiarmi l'occhio cioè proprio va sopra e quindi devo disegnare a occhio aperto poi dopo chiudo e procedo con il riempimento sta iniziando a finire ma anche se è verso la fine questo qua di Clio è sempre performante come blush vado ad utilizzare questi sempre di Nars la Orgasm For Play e un po' di rosa ma non tantissimo voi vedete questo video super bianco questo è il look completato per ultimo applico questo bellissimo marroncino no vi giuro particolare particolare vado ad applicare il Pout Bomb Plumping Lip Gloss marrone questo marroncino qua che si chiama che è nella colorazione cookie senza nessuna matita contorno labbra perché si meraviglioso è favoloso questo colore è plumping di brutto sono molto molto soddisfatta della riuscita di questo makeup starei molto bene secondo me con i capelli mossi cioè tipo quei capelli mossi molto più alla fine non ho messo le ciglia finte ve l'ho detto cerco sempre di cioè mi dico sempre adesso le metto adesso le metto poi non le metto niente raghi questi sono i miei capelli vede la trave qua vabbè comunque fate finta che non ci sia questi sono i capelli finiti con il look finito un'altra gloria cioè questo canale ha cambiato di nuovo ha mutato di nuovo da brava camaleonte quali sono da anni quindi sono piacevolmente colpita da questo look sì dai mi piace non capisco se con il trucco mi sento più grande spero che questo video vi sia piaciuto con tutte queste novità e un po' di chiacchiere insomma un po' di questa sedia cigola di brutto come sempre vi aspetto per sapere la vostra io vi auguro un buon proseguimento di giornata serata buonanotte buongiorno buon appetito qualsiasi cosa stiate facendo mentre guardate questo video e ci vediamo al prossimo mi raccomando seguitemi su IG e sul canale Viola dove faccio spesso dirette ciao alla prossima oh yeah buonanotte buonanotte buonanotte